Italia sotto inchiesta Sono le 17, una manciata di secondi come tutti i pomeriggi siamo qui, noi il gruppo di Italia sotto inchiesta Buonasera a tutti da Manuela Falcetti, Michela Ferrante, Alessandro Allegra, Cecilia Mosetti, Gabriele Brocani Il tecnico di oggi Stefano Catini e voi che ci state ascoltando Cosa mettereste sotto inchiesta oggi, tutti, subito, in galera? Grazie a tutti